Autonomia differenziata, il disegno di legge delega è inaccettabile nel metodo e nel contenuto. E' Emiliano che sbotta la conferenza delle regioni a Roma e chiede il ritiro del DDL. Avrebbe abusato per 4 anni della nipote, arrestato 20enne, all'epoca dei fatti la vittima aveva solo 5 anni. Superate già nei primi due giorni le aspettative di partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo Pugliese, BTM, in corso a Bari, nella seconda giornata a focus sulla sostenibilità, bisogna pensare alla formazione e a un nuovo modello di accoglienza, detto l'assessore Sebastiano Leo. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud, ATG interregionale, dedicato come di consueto alla Puglia e alla Basilicata. Sempre in diretta per aggiornarvi sui fatti più importanti dei territori, apriamo con la politica, apriamo con la conferenza delle regioni a Roma, alla quale ha partecipato ovviamente anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Temo al centro, l'autonomia differenziata. Sono dure le parole di Emiliano, il disegno di legge delega è inaccettabile, dice il governatore, nel metodo ma anche nel contenuto. Così sbotta e chiede il ritiro del DDL. Portiamo di qui. Il disegno di legge delega è inaccettabile nel metodo e nel contenuto. Emiliano sbotta la conferenza delle regioni a Roma sull'autonomia. Il governatore della regione Puglia è convinto vadano ridefiniti l'EP e ristrutturata la perequazione tra nord e sud, spiegando di aver chiesto il ritiro del DDL. Abbiamo l'impressione, ha giunto Emiliano, della continua accelerazione su un processo del quale non si conosce l'esito a rischio, secondo il presidente pugliese, anche l'unità nazionale. La Puglia ha espresso un parere contrario sul DDL Calderone e ne ha chiesto il ritiro. Abbiamo l'impressione di una continua accelerazione su un processo del quale non si conosce l'esito. Si rischia tra breve di avere un paese nel quale un'impresa, una famiglia, un cittadino, muovendosi sul territorio nazionale, rischia di avere per materie importantissime, alle volte come interlocutore lo Stato, sia dal punto di vista legislativo che amministrativo, alle volte le regioni. E in più si rischia di stritolare tutti i comuni italiani sotto il peso di regioni che diventeranno ovviamente onnipotenti. E questo non corrisponde al disegno del legislatore costituzionale e, devo dire, neanche a un criterio di buona amministrazione. Per queste ragioni la Puglia, a tutela dei comuni e a tutela dell'unità nazionale, ha chiesto il ritiro del DDL Calderone. Intanto da destra si sollevano le polemiche. Emiliano la smetta di mestare quotidianamente nel torbido alla ricerca di una visibilità nazionale per accaparrarsi le simpatie della segretaria del suo partito, eletta alle primarie e versata da lui. Così il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, che attacca. Ebbene, ricordarli che il DDL sull'autonomia del governo Meloni, proposto dal ministro Calderoli, punta solo a dare attuazione agli articoli 116 e 119 della Costituzione, così come modificati dal governo D'Alema. Restiamo sempre a Roma. Via libera definitivo della Camera al decreto legge ex ILVA. Il testo è stato approvato definitivamente con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 assenuti. Parla il ministro Urso, poste le condizioni, dice, per il rilancio. Ora tocca all'azienda, ma è polemica sullo scudo penale. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sull'approvazione del decreto sull'impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto decreto ex ILVA, senza modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura al Senato. 680 milioni da parte di Invitalia ad acceglierie destinato ad un aumento di capitale per assicurare la continuità della produzione di Taranto. La somma servirà anche a pagare i fornitori, in particolare quelli dell'energia. La polemica si accende però sull'introduzione dello scudo penale. Non è una norma che consente di operare nell'illegalità, come è evidente, ma si tratta di una norma che tutela, è una causa di giustificazione sostanzialmente, che tutela gli amministratori nel momento in cui pongono in essere delle azioni in linea con il piano ambientale. Lo scudo penale serve semplicemente a dare la possibilità di continuare a fare gli interventi di ambientalizzazione senza dover pagare le pene di chi è venuto prima di noi, le pene intendo anche i reati. In aula l'abbiamo descritto bene, quindi sono tutte chiacchiere. L'opposizione va all'attacco giudicando questo decreto sull'ILVA, una barbarie giuridica, garantisce l'immunità penale a chi viola le leggi ambientali e sanitarie e quelle sulla sicurezza sul lavoro. In nessuna parte del mondo esiste un impianto produttivo che opera con l'immunità. Francamente, di fronte a una situazione di questo tipo, possiamo dire tranquillamente che a Taranto non esiste la legge per i cittadini. Non si capisce esattamente chi lo può utilizzare, quindi la protea può essere molto larga, né per quali reati. Da questo punto di vista si va anche oltre solo i reati ambientali. Questo penso sia un elemento che deve suscitare una qualche preoccupazione. Una vergognosa marcia indietro che ovviamente ricadrà su tutti i cittadini di Taranto che speravano nelle istituzioni dalla loro parte e invece si ritrovano questo governo che tutela come al solito i colletti bianchi e gli interessi di pochi, a discapito poi di tutti i cittadini tarantini. Superate già nei primi due giorni le aspettative di partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo Pugliese, la BTM, in svolgimento a Bari. Oggi particolare attenzione dedicata alla sostenibilità. 18.000 i visitatori che hanno affollato la Fiera dell'Evante di Bari per i primi due giorni di BTM, uno dei principali eventi B2B del Sud Italia di promozione del turismo. Tra i temi importanti, la sostenibilità. Preservare i nostri territori che belli sono ma che meritano cura anche per chi ci viene a trovare. Questo devo dire che adesso è il compito più gravoso perché se la Puglia nella promozione ha fatto passi da gigante, ha dimostrato di saper giocare non solo alla pari ma anche a livello diciamo più alto rispetto ai suoi competitor, adesso la sfida importante è quella di riuscire a non rovinare i territori. Il futuro è sicuramente la sostenibilità non perché il governo e il PNR hanno buttato un po' di soldi anche tanti per questo tema. Noi abbiamo da 20 anni in queste catene dei progetti di sostenibilità dove misuriamo la spazzatura, l'energia elettrica e i consumi d'acqua perché ci rendiamo conto che non è solo un problema di mercato accontentare il cliente maturo ormai con la pancia piena che non ha problemi di mangiare tanto come il cliente una volta ma il problema di capire se spendere i propri soldi per migliorare questo pianeta anche attraverso il turismo può avere un senso nella sua vacanza. Ecco, probabilmente ad oggi fotografare la situazione non basta. Vi siete impegnati con questa edizione anche a fornire gli strumenti adatti alle aziende per traguardare questa transizione? Il tema è molto complesso, molto complicato. Questo è il primo evento in Italia che parla di emergenza climatica e turismo. Le indicazioni che diamo qui sono A, di occuparsene, B, bisogna convergere il pubblico privato e soprattutto bisogna lavorare sulle competenze e bisogna fare in tutti i comuni a cominciare dalla regione il piano di adattamento climatico. C'è attesa per la terza e ultima giornata quella che vedrà convergere in fiera 120 buyer internazionali grazie anche alla sinergia con la contemporanea Baipuglia Roots & Experience settima edizione del trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese. Alla fiera internazionale del turismo pugliese ha partecipato anche l'assessore della regione Puglia all'istruzione, Sebastiano Leo. Parla di un nuovo modello di accoglienza e della formazione assolutamente necessaria anche per il comparto turistico. L'assessore all'istruzione della regione Puglia, Sebastiano Leo, è stato ospite alla fiera del Levante Bari per l'evento BTM4Job. Fiera legata al turismo che conferma la necessità di individuare uno spazio legato alla formazione al lavoro. Serve sviluppare, dice Leo, una nuova idea di turismo basata sulla qualità, sui servizi e sulle peculiarità legate ai territori, innovando il sistema di accoglienza in base ai bisogni delle persone. Noi dobbiamo assolutamente garantire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma anche ai meno giovani, quelle giuste conoscenze e competenze per affrontare il mondo del lavoro. Non solo nel campo del turismo, che è assolutamente fondamentale, il nostro asset strategico, ma in tutti i settori. Noi siamo convinti che, essendo proprio, diciamo, divendo in un mondo globalizzato, le competenze devono essere assolutamente importanti. E dobbiamo soprattutto cercare di costruire percorsi di orientamento che devono essere fondamentali, non solo per comprendere le attitudini dei nostri ragazzi, ma anche per capire il contesto territoriale in cui viviamo. Quindi dobbiamo fare un lavoro di sinergia con le imprese, con il mondo del lavoro, quindi con tutte le agenzie formative, dalla scuola all'ITS, dall'ITS dell'università. La cronaca, andiamo in Salento, avrebbe abusato per quattro anni della nipote, arrestato un ventenne, che all'epoca, e all'epoca dei fatti, la vittima, pensate, aveva solo cinque anni. Per quattro anni, dal 2018 a giugno 2022, avrebbe abusato della nipote da quando aveva cinque anni fino a nove, mentre lui di anni ne aveva 15 e ora 20. A finire in manette uno zio di Fasano, condotto in carcere con l'accusa, come sempre tutta da dimostrare, di violenza sessuale pluriaggravata. La piccola, spesso il fine settimana, si fermava a dormire a casa della nonna e lì lo zio, nelle ore serali e notturne, l'avrebbe abusata. Gli episodi di violenza sessuale si sarebbero consumati negli anni, diventando di volta in volta sempre più invasivi, e avvenivano in tutte le occasioni in cui la nipote restava da sola con lo zio, non solo all'interno dell'abitazione in cui lo stesso abitava, ma anche quando la vittima si trovava in macchina con l'arrestato per essere accompagnata da altri parenti, ad aggravare la posizione del giovane e anche la minorità della vittima, poiché è al di sotto di dieci anni, l'abuso di relazioni domestiche, essendo l'arrestato un parente della minore, e con l'abuso del rapporto di coabitazione, oltre che di aver commesso il fatto contro una persona incapace di difendersi. Le indagini nascono a seguito della denuncia fatta dalla madre della bambina, la quale, rivoltasi ai carabinieri, ha deciso di esporre tutti i fatti. La piccola in un primo momento si confidò con una parente, poi pian piano ha iniziato a liberarsi di un macigno diventato troppo pesante. Avrebbe raccontato con dovizia di particolari tutto quanto era stato costretto a fare e subire con la minaccia di non raccontare nulla a nessuno. Un clima che nel tempo ha portato la vittima a vivere nella paura e nella vergogna per quanto accadeva in casa della nonna ad opera dello zio. L'invito che mi sento di rivolgere a tutti è che chiunque fosse a conoscenza di situazioni simili, in modo diretto e indiretto, anche in situazioni di contesto intrafamiliare, di episodi di violenza nei confronti soprattutto dei minori, di rivolgersi ai carabinieri e di rinunciare i fatti. Caro Vigno, omicidio Serranova. Chiede giustizia e verità il fratello di Antonio Calò, il settantenne, ucciso barbaramente insieme alla moglie Caterina nella loro abitazione di Contrada Canali e caccia il killer. Se non so nemmeno io che dire, non so nemmeno io, che io so pure la scoperta della ricerca. Volete giustizia? Vogliamo giustizia sì, vogliamo giustizia e come vogliamo giustizia. Chiede giustizia Carmelo, vuole sapere chi e perché ha ucciso suo fratello Antonio Calò, settantenne Caterina Martucci, 64 anni, marito e moglie, trovati morti sparati all'interno di questa abitazione rurale tra le campagne di Serranova in Contrada Canali, in Agro di Carovigno. La porta era chiusa con la maniglia, ma non cacchiava, non era chiusa a chiave. Allora ho fatto così, era buio dentro alla casa perché era spenta la luce, ho buttato le mani all'interruttore, ho sceso la luce, come ho guardato a terra, ho visto mio fratello a terra. Chiede la verità a Carmelo, è stato lui nel tardo pomeriggio di mercoledì ad aprire la porta di casa ritrovandosi davanti al corpo senza vita di Tonino adagiato al ridosso dell'ingresso in camera da letto in un'altra stanza il cadavere della moglie. Ed è insomma possibile che Tonino abbia aperto la porta al suo killer, killer che poi è entrato all'interno dell'abitazione sparando anche alla povera Caterina. Un'esecuzione in piena regola con l'assassino armato, probabilmente di un fucile caricato a palettoni. Eppure, giuro a chi conosceva le due vittime, si trattava di gente umile che viveva la giornata campando con poche centinaia di euro, garantite dalla pensione, raccogliendo verdura, allevando animali in uno spartano cortile posizionato sul retro di quella casa semplice e disordinata, priva di orpelli. L'indagine è ora affidata alla procura di brindisi ai carabinieri della compagnia di San Vittorio Normanni e del comando provinciale, cristallizzata la scena del crimine, le indagini che non escludono alcuna pista proseguono incessanti e scavano nella vita delle vittime in quella quotidianità scandita dall'alba e dal tramonto, quello di due vite spezzate senza un apparente perché. Andiamo invece ad Aessonella Bat per una disamina sulla situazione relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica con un particolare focus sul fenomeno della delinquenza giovanile e delle baby gang al centro dell'attenzione del comitato provinciale che si è svolto in prefettura Barletta ed è stato presieduto dal prefetto Rosanna Riflesso. E' emerso in tutta evidenza che non esistono baby gang, non si può pensare e sostenere che nella nostra provincia ci siano delle baby gang, secondo una definizione come dire giuridica precisa. E' quanto emerso dall'incontro sull'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura Bat presieduto dal prefetto Rosanna Riflesso. Gli episodi di violenza recentemente verificatisi non sono dunque ascrivibili al fenomeno delle cosiddette baby gang, ma espressione prevalentemente di marginalità, disagio familiare e povertà culturale che spesso sfociano in comportamenti aggressivi. La riunione aveva la finalità di inquadrare il fenomeno, un disagio generazionale sempre più dilagante acuito ulteriormente dall'assenza di famiglie e dalla dispersione scolastica. Gli episodi recentemente accaduti contribuiscono inevitabilmente a ridurre la percezione di sicurezza nella comunità. Sono già stati disposti servizi straordinari di controllo ad alto impatto che hanno visto le forze dell'ordine a intensificare, nelle ore serali, i controlli in locali ricettivi e circoli ricreativi. A questo si sono aggiunte attività di indagine che hanno portato l'individuazione di alcuni giovanissimi definiti alla Procura della Repubblica per i mionorenni di Bari. La sola repressione però non può bastare, bisogna intensificare con attività di prevenzione in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, il mondo della scuola, le parrocchie, l'associazionismo, incedendo maggiormente con strumenti di prevenzione sociale ed ed educazione alla legalità nei confronti delle giovani generazioni. Stiamo cercando di fare in modo di prevenire una trasformazione anche di questo fenomeno. È importante che il minore che delinque non diventi un adulto poi che delinque. A Foggia la Guardia di Finanza scopre 192 furbetti del reddito di cittadinanza, oltre 1,2 milioni di euro indebitamente percepiti. Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza individuate dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia per una frode dell'ammontare complessivo pari a 1,2 milioni di euro e quanto emerso dalle recenti attività ispettive condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. All'esito di specifiche analisi di rischio sono stati individuati diversi nuclei familiari al cui interno sono risultate presenti persone che percepivano il beneficio, seppur risultando contemporaneamente proprietari di beni immobili o valori immobiliari, ovvero percettori di redditi non dichiarati, oltre alle soglie previste dalla legge. Analizzando le istanze presentate sono emerse numerose posizioni apparentemente irregolari, prevalentemente a Manfredonia, San Severo, Lucera, Vieste, Rodi Garganico, Cagnano Varano e Carpino. Tra questi due nuclei familiari con persone sottoposte a misure cautelari personali in quanto ritenute affiliati alla locale Criminalità e due cittadini stranieri che avevano dichiarato falsamente di essere residenti in Italia. Altri casi sono stati scoperti a seguito di controlli in materia di lavoro sommerso presso esercizi commerciali, bar e ristoranti, nonché in una RSA di Cerignola con richiesta dei dipendenti di essere pagati in nero per non perdere i requisiti per la concessione del beneficio. Oltre 150 posizioni sono emerse invece da un'attività ispettiva della tenenza di Lucera che ha individuato persone che avevano riscosso vincite derivanti dai giochi online anche superiori a 100.000 euro omettendo di comunicare tali circostanze in tal modo conservando il beneficio. Tutte le posizioni sono al vaglio della Procura della Repubblica di Foggia che ha delegato puntuali approfondimenti e disposto il sequestro delle somme ritenute indebitamente percepite. Andiamo in Basilicata, è stato ufficializzato nella sede nazionale di Roma il passaggio Fratelli d'Italia del Presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, eletto precedentemente tra le fila della Lega. Adesione questa che rafforza ulteriormente nell'aula di Viale Verrastro la presenza e il peso del partito della Premier Meloni. Ho accettato di entrare nel partito della Meloni quindi di Fratelli d'Italia, l'ho fatto con un grande entusiasmo, era nell'aria, era atteso perché di fatto ne condivido con quello che è l'idea, i temi di questo orgoglio nazionale legato a quella che è la nostra identità, le nostre radici, insomma la nostra storia, la nostra cultura. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale lucano Carmine Cicala spiega la sua adesione al partito di Giorgia Meloni e l'addio alla Lega di Salvini. Una decisione maturata da tempo che ha raccolto soddisfazione unanime da parte di tutti i meloniani, lucani e non solo e che rafforza la presenza e il peso di Fratelli d'Italia nell'aula di Viale Verrastro. Per quanto riguarda il Governo regionale cambieranno gli equilibri in Consiglio? Ma questo è inevitabile, no? In questo momento il gruppo di Fratelli d'Italia è il primo in effetti presente, quindi nella maggioranza diventa il primo partito di maggioranza relativa e di conseguenza avrà un peso specifico differente. E questo aiuterà, come ho poco anzi detto, a dare un indirizzo più forte, più deciso, più determinato. Ma comunque sempre nell'ottica di una maggioranza, di un sostegno a quello che è il Governo regionale e con una visione che riesca a guardare, che riesce certamente a guardare a quelle che sono anche le prossime elezioni, no? Cioè del prossimo anno. Un punto di riferimento per il territorio tra turismo, vino e cultura. Torniamo in Puglia, andiamo a Cellino San Marco, dove è stato inaugurato un nuovo hotel. Una perla dell'enoturismo d'eccellenza dopo il progetto Villa Neviera Wine Resort, che sarà presentato nei prossimi mesi, Due Palme aggiunge un tassello fondamentale con il lusuoso Chelina Charm Hotel, collocato nel centro storico di Cellino San Marco. La struttura è stata inaugurata con una parte che ha ospitato istituzioni come la Presidente della Provincia di Brindisi Matarrelli e la Sindaco di Cellino Marra, volti noti del vino e tanti amici accolti dal fondatore Angelo Maci. Esportiamo il vino in 90 paesi del mondo e il principio di quell'investimento è stato quello, cioè portare i nostri inglesi, tedeschi, importatori di tutto il mondo a Cellino San Marco per farli innamorare, per fargli vedere il vigneto, per fargli vedere la bellezza dei nostri due mari, la bellezza del nostro settore agricolo. Una perfetta fusione tra vino, cultura e turismo come spiega Melissa Maci, Presidente di Due Palme. Ci dà la possibilità a questa nuova gestione di questa struttura lussuosa e prestigiosa al centro del paese di, come dicevo appunto prima, anticipare di qualche mese questo nuovo progetto nell'ambito dell'enoturismo. Noi siamo felicissimi, siamo certi che anche in quest'ambito dove dopo essere riusciti per 34 anni a promuovere le nostre eccellenze nel mondo, adesso è giunto il momento di promuovere il territorio in cui si producono queste eccellenze. Otto camere, tra cui tre suite superior, tre classiche, due economy e l'offerta della chelina, affidata dal CDA Due Palme alla competenza di Antonella Maci. È una struttura bellissima, quindi spero di riuscire a renderla ancora più bella attraverso i mille eventi che organizzerò, perché questa struttura sarà soprattutto una struttura che faremo degli eventi mirati. Torniamo a parlare dell'Exilva con una pagina più territoriale. Le imprese dell'Indotto incontrano il Ministro Urso. Abbiamo consegnato al Ministro un documento con il quale abbiamo avuto interazione con la segreteria tecnica con il Dottor Calabro, persona molto molto clodevole perché è tecnica, perché siamo entrati nei vari punti essenziali. Quelli più importanti è la possibilità di iniziare a pensare, dato che è un'azienda pubblico-privata, nell'applicazione dello split payment, che chiaramente potrebbe gestire un'attività differente nei confronti di tutte le aziende, un risparmio del 22%, per quanto non versate. Per quanto concerne la CIG, abbiamo chiesto la possibilità di gestire insieme la cassa integrazione, quindi di avere l'opportunità di pagarla direttamente, di essere fatta pagata direttamente tramite l'Inps. Non per ultimo la possibilità di aprire una linea di credito diretta per l'eccessione delle fatture, quelle future, perché le aziende, per colpa della situazione creata sin nel 2015, ad oggi hanno la maggior parte un rating bancario inappropriato. Un primo importante passo per affrontare il caro energia. A Taranto, 10 associazioni di categoria che nell'autunno scorso hanno lanciato il tavolo di confronto sul caro bollette, plaudono al bando per i ristori della Camera di Commercio. Un risultato che ha premiato l'impegno profuso da Confartigianato, Confagricoltura, Confapi, Confesercenti, Cia, Clai, Copagri, Uppalap, Casa Imprese ed Unsic per aiutare le imprese in crisi. L'avvio del bando per il caro energia elaborato dalla Camera di Commercio incontra il favore delle 10 associazioni che per prime avevano lanciato l'allarme. L'importo di 150 mila euro, stanziato per ristorare l'aumento dei costi energetici, non è sicuramente esaustivo, ma rappresenta un ausilio importante. Noi già abbiamo messo l'impegno, ma chi ci ha messo molto del suo è stato Sua Eccellenza il Prefetto che si è reso immediatamente sensibile e disponibile all'istanza che da ottobre abbiamo rappresentato alla ricerca di poter trovare delle forme di ristoro al ciò che sono le sofferenze che tutte le imprese del territorio ionico, specie le micro imprese, quelle a cui noi facciamo particolarmente riferimento, hanno dovuto affrontare. Abbiamo collaborato con i dirigenti della Camera di Commercio, con il direttore lasanesi, abbiamo inserito oltre all'elettricità come parametro anche il gas e il gasolio, quindi abbiamo cercato anche di rendere fruibile il bando a quante più imprese possibili. L'invito che facciamo a tutti gli imprenditori, alle micro imprese è che attraverso le associazioni di categoria o anche attraverso il proprio commercialista verificano un po' l'aumento del costo energia da una bolletta del 2022 rispetto a quella del 2019 e quindi prendersi questo voucher di 600 euro. Job day, domande e offerta si incontrano a Taranto, sentite. Incrociare domande e offerta, questo è l'obiettivo dell'incontro tra aziende e giovani del territorio nel job day a Taranto. Abbiamo voluto promuovere questa giornata di incontro con le aziende del territorio che si occupano di turismo per agevolare e facilitare il compito di incrocio domande e offerta di lavoro con i ragazzi del territorio che sono in cerca di fare un'esperienza lavorativa, che sia la prima oppure che abbiano già esperienza lavorativa perché le nostre aziende, soprattutto nel settore turistico, hanno bisogno di dipendenti e trovano difficoltà a trovarle. Quindi il nostro compito è quello di cercare di agevolare questa ricerca da parte delle aziende. Il job day diviene strumento fondamentale soprattutto nel settore del turismo con annesse strutture ricettive. L'incontro tra domande e offerta diventa uno strumento fondamentale soprattutto per un settore altamente in crescita come quello del turismo che rappresenta il 16% del PIL pugliese. Fondamentale queste iniziative e questi incontri dove i centri per l'impiego possono proporre e offrire opportunità lavorative ai nostri ragazzi che per la stagione estiva diventano risorse estremamente importanti per il proseguo delle attività. Investire sui giovani dunque affinché siano risorse importanti per l'economia del territorio, certo, garantendo al tempo stesso crescita personale e indipendenza economica. L'ANAS verso la rimodulazione dei lavori per la strada statale 16 nel tratto tra Bari e Mola per salvaguardare gli attuali impianti di illuminazione. Il sindaco De Caro si sofferma sulla questione. Sentiamolo. Verranno salvaguardati gli impianti di pubblica illuminazione, in particolare sugli svincoli nel corso dei lavori riguardanti la strada statale 16 tra Bari e Mola di Bari. Ciò dipende dal fatto che l'ANAS ha offerto la sua disponibilità nell'accogliere la richiesta di modifica del progetto iniziale, lasciando inalterati i livelli attuali. Richieste giunte non solo dai sindaci delle due città, ma anche dai residenti stessi e che così risultano accolte al fine di garantire gli standard attuali di sicurezza. Così Antonio De Caro sull'argomento. A margine del Consiglio Comunale, insieme all'assessore comunale di Bari e di Mola, insieme al sindaco di Mola, abbiamo incontrato il direttore del compartimento dell'ANAS. Abbiamo sollevato questo tema rispetto alla necessità di mantenere la pubblica illuminazione su quel tratto di strada, in particolare sugli svincoli, attraverso un'illuminazione diversa rispetto a quella attuale, perché la sostituzione del guarderei centrale porterà allo spostamento dell'impianto di illuminazione che al centro non è più a norma. Si troverà una soluzione sulle complanari, in corrispondenza degli svincoli, nel tratto tra Bari e Mola, hanno preso l'impegno di realizzare questo nuovo impianto in contemporanea con i lavori di realizzazione del nuovo spartitraffico centrale. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Parla della Puglia, il secondo lavoro d'inchiesta di geografie meridiane, il progetto dell'impresa sociale Vita per analizzare i problemi sociali del Mezzogiorno d'Italia. Da una parte il volano dell'innovazione sociale, che sta diventando un tratto distintivo della regione, dall'altra la crescita dei tassi di povertà e della presenza mafiosa, e il welfare dei binari paralleli lontano dal popolo, che caratterizza la regione Puglia, raccontato dal secondo lavoro d'inchiesta di geografie meridiane, il progetto dell'impresa sociale Vita per analizzare i problemi sociali del Mezzogiorno d'Italia. Racconta di un welfare che appunto è bifronte, un po' bipolare. Da una parte abbiamo una grande capacità che questa regione ha dimostrato nei confronti dell'innovazione sociale, delle imprese giovanili. Dall'altra parte, e da qui diciamo la bipolarità, la bifrontalità, un'incapacità storica di affrontare alcune problematiche che sono problematiche tradizionali della regione. Pensiamo a tutto il tema delle agromafie, al tema dei ghetti e dei migranti, nel particolare nella zona nord della vostra regione, nel Foggiano, ma pensiamo anche ai tassi di povertà. Secondo lei e secondo gli studi che avete effettuato, come mai in parallelo si prosegua in un senso che è positivo e prodigioso, nell'altro senso che poi invece è devastante? Com'è possibile che questi due fenomeni così diversi viaggino di pari passo? Io credo perché ci sono poche occasioni di confronto, di incrocio. Da una parte c'è stata grande capacità di innovazione, anche dal punto di vista della regione Puglia. È una regione che al sud è stata anche capace di coprogettare con le organizzazioni del terzo settore, con le organizzazioni sociali, però di coprogettare su terreni nuovi, terreni forse più facili da affrontare. Dove c'è invece da andare a sradicare, se vogliamo, anche delle posizioni anche al limite tra legale e illegale, spesso nelle illegali, ma molto radicate, lì obiettivamente è una condizione più difficile e questa cosa la Puglia sembra che ancora oggi non riesca a farla. Non possiamo dimenticarci, in una regione che fa dell'innovazione, la Puglia che fa dell'innovazione, un cavallo di battaglia, non possiamo dimenticarci dell'importanza della costruzione di percorsi inclusivi e di bene comune. Su quelli, ovviamente, poi si possono costruire percorsi economici. Una guerra legale dorata anni tra padre e figlio all'ombra di una nota azienda a Salentina. Al centro una presunta truffa, ma il giudice del Tribunale di Lecce ha assolto Gilberto Maci perché il fatto non sussiste. Al centro dell'intera vicenda c'era la cooperativa Cantina Due Palme e alcuni acquisti. Una guerra legale durata anni tra padre e figlio all'ombra di una nota azienda a Salentina. Al centro una presunta truffa, ma il giudice del Tribunale di Lecce ha assolto Gilberto Maci perché il fatto non sussiste. Al centro dell'intera vicenda c'era la Cantina Due Palme e alcuni acquisti. Gilberto Maci, infatti, era stato accusato di aver indebitamente utilizzato le mail e il telefono della società per richiedere la fornitura di grandi quantità di contenitori. Merce utilizzata per imbottigliare il vino a destinare alla vendita in nome e per conto della società cooperativa agricola Cantina Due Palme è, secondo l'accusa, dirottata invece nei due punti vendita gestiti personalmente da Gilberto Maci e non dalla società. A ritiro della merce, inoltre, l'imprenditore era accusato di aver apposto false firme sulla bolle di consegna degli ordini addebitando all'azienda di famiglia il pagamento delle forniture poi inserite nella contabilità della società causando un danno per 116.000 euro. In sede processuale, però, davanti alla giudice monocratica Cinzia Vergine è prevalsa la tesi difensiva dell'avvocato Fani Iulo che ha fatto emergere come mai fosse stata acquisita la prova che l'imprenditore avesse dirottato il materiale nei suoi punti vendita. In più, una perizia calligrafica ha consentito di appurare che le firme sui documenti di trasporto fossero autentiche e riconducibili all'addetto dello scarico merci. La giudice quindi ha così disposto l'assoluzione ponendo fin ad una vicenda che ha turbato per anni il noto imprenditore salentino. Inaugurata la stagione croceristica nel porto di Brindisi oltre 1.400 turisti hanno visitato la città in un giorno. Alla fine è andata bene perché comunque manteniamo in linea il porto di Brindisi come tutti gli altri porti del nostro sistema, quindi consolidiamo un traffico. Con l'arrivo della nave Borealis Fred Olsen da 1.400 passeggeri è stata inaugurata ufficialmente la nuova stagione croceristica a Brindisi. Possiamo essere comunque soddisfatti nonostante le difficoltà. È evidenziato più volte il numero 1 dell'autority. Questa sarà una stagione particolare in tutta Italia sul piano croceristico a causa della guerra, ovviamente dei blocchi relativi al porto di Venezia. Un po' tutti hanno risentito della crisi. Gli scali in meno sono in tutta Italia, in tutto l'Adriatico ci sono scali in meno. Ci sono scali in meno a Bari, ci sono scali in meno ad Ancona, ci sono scali in meno a Trieste, ci sono scali in meno a Venezia, ci sono scali in meno a Brindisi. Abbiamo tutti i segmenti della croceristica rappresentati a Brindisi, dal Contemporary quindi con MSC che ritorna e facendo ancora una volta di Brindisi Porto Hub che è un valore assoluto, ricordo, poi abbiamo il Luxury ma soprattutto abbiamo una grandissima presenza nel segmento top che è l'extra Luxury. Sono navi splendide che portano turisti con una capacità di spesa non comune. Nuovo centro di innovazione e sviluppo nella sede barese di Sotta Fraschini. Il tutto è impreziosito da 32 nuove assunzioni che puntano su novità importanti sul piano della sostenibilità. Inaugurato a Bari un nuovo centro di innovazione e sviluppo nello stabilimento Isotta Fraschini. Esso si occuperà dello studio di nuovi sistemi di power management che comprendono anche le energie rinnovabili, l'avvio della progettazione di un nuovo motore che soddisfi le esigenze di ridurre le emissioni con l'obiettivo finale dell'impiego di idrogeno. Prodotti efficienti e sostenibili dunque ed in settori strategici. Un motivo d'orgoglio per il territorio, considerato universalmente un passo in avanti nel mezzogiorno. E non va dimenticata l'assunzione di 32 nuove forze lavoro, non solo giovani e laureati, ma anche cervelli esperti e di rientro in possesso di competenze di alto rango. Abbiamo messo a disposizione la regione Puglia, in particolare tutte le aree che già Isotta Fraschini utilizza per moltiplicare e supportare questa attività. Grazie alle nostre università, grazie ai sindaci, grazie al tessuto culturale della regione. Ovviamente siamo in grado di dare un grandissimo supporto ad una impresa che si identifica con la patria, che ho detto forse con un po' troppa enfasi, ma è la verità, nel senso che sia nelle attività civili che in quelle militari, Fincantieri è in grado di rappresentare il Paese con il massimo del livello dell'impegno, non solo storico, ma soprattutto proiettato nel futuro. Abbiamo identificato degli obiettivi a breve, degli obiettivi a medio, che diano a quello che sappiamo fare in Isotta Fraschini e a un passato molto prestigioso, anche a un futuro prestigioso. Questo è un po' il compito che ci siamo presi e questo è il motivo per cui siamo venuti oggi. Parliamo ancora di economia e industria. La metalmeccanica italiana reagisce a crisi. In cassa il calo della produzione 2022 mette in cantiere un aumento. A dirlo, la sezione di Confindustria, i numeri di Bari e della BAT migliorano il quadro nazionale, ma i reincari energetici erodono i margini. Rispetto al quadro nazionale, il settore metalmeccanico ha una richiesta di personale che arriva al 40% sul confronto nazionale. Noi stiamo lavorando, ci sono notizie recenti, sull'attivazione di corsi di formazione. Per il settore della metalmeccanica. La metalmeccanica italiana reagisce alla crisi. In cassa il lieve calo della produzione 2022 rispetto all'anno precedente, ma mette in cantiere un incremento già nei prossimi mesi. Export che va su, il 32% delle realtà soddisfatto del portafoglio ordini. Il 22% prevede di aumentare le unità al lavoro, pur cosciente del rischio di vedersi bruciare i margini dai rincari energetici. E vale anche per il settore del Barese e della BAT, che regge. Il terzo trimestre dello scorso anno si è chiuso, infatti, con numeri migliori di quelli nazionali. Più 44% sulle imprese che registrano un aumento della produzione. Il 35% di loro mette il segno più davanti a quella per l'estero, contro il 29% del dato nazionale. E più della metà delle aziende coinvolte prevede una produzione stabile già nell'anno in corso. Un ottimismo in grado di includere anche i livelli occupazionali, già nei prossimi sei mesi. Il rincaro delle materie prime pesa il cugno fiscale, pesano tutta una serie di aspetti che ci portiamo sulle spalle e che ci impediscono di correre. Perché abbiamo nelle gambe l'energia per correre come industria meccanica, veniamo apprezzati dal nostro mercato, abbiamo ordini in corso, abbiamo voglia di assumere personale. Però abbiamo la necessità che ci venga alleggerito il peso di tutto quello che ci siamo portati sulle spalle fino ad oggi. Nuovo servizio sociosanitario all'insegna della robotica e di supporto per gli over 65, l'iniziativa del Comune di Bari per gli anziani. Ma è tutto necessario? Sì, Danio, tutto è necessario. Inaugurato a Bari il nuovo servizio sociosanitario per la terza età, promosso dall'assessorato comunale al welfare, ma anche dalla cooperativa sociale Aliante, che offrirà un programma di interventi e servizi in favore della popolazione anziana. Il progetto, in continuità con quanto già avviato dalla rete cittadina SHAM, mira a promuovere percorsi di prevenzione, contrasto alle povertà sociosanitarie e vulnerabilità delle persone over 65. Laboratori collettivi non mancheranno e soprattutto fondamentale sarà il supporto della robotica. Si parte con l'ampliamento della sperimentazione presso 15 abitazioni private di altrettanti iscritti allo stesso progetto SHAM. Questo presidio non soltanto rappresenterà un punto di riferimento, di ascolto, di accoglienza, di orientamento, di attività per l'invecchiamento attivo, con corsi di ginnastica, di digitalizzazione, ma anche svilupperà una serie di strumenti di telemedicina e robotica in rete appunto con la cooperativa Allianti e l'Università di Informatica. La sperimentazione andrà in 15 abitazioni dove ci sono persone sole che abbiamo già fatto uno screening rispetto a quello che è la loro giornata tipo e quindi il robot seguirà passo passo tutti i tempi della loro giornata. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie. 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 Grazie.